Benvenuti tutti ascoltatori e ascoltatrici di Sherwood Radio siamo qui in anteprima assoluta il nuovo tour del nostro main stage headliner stasera e ci propone il nuovo album Medio Ego andiamo a scoprire e fare anche un flashback nella lunga storia di uno dei pilastri del hip hop italiano andiamoci a fare questo flashback partiamo proprio dagli inizi la scena di Bologna è stata un punto di riferimento assoluto parliamo dell'isola nel cantiere, isola Posse All Stars, il Link eccetera eccetera come ha contribuito questo background nella tua crescita artistica? io sono nato dal periodo in cui il rap era politica, straight politics, parlando in inglese un po' anch'io quando ho iniziato io il rap era solo politica, non potevi dire altre cose e sono felice che faccia parte della mia matrice questa cosa perché ci penso sempre, anche oggi che il rap è diventato pura superficialità quella matrice è presente nel mio cuore, nella mia coscienza e non potrei mai dimenticarmi dove è nato il rap in Italia, perché comunque in Italia il rap è nato così dalla politica, dalle poste di Roma, dalle poste di Napoli, dai centri sociali storici di cui magari ne sono rimasti pochi, quindi per me è fondamentale quel tipo di background mi dispiace che i ragazzi di oggi non abbiano quel tipo di coscienza politica ma vadano diretti sui soldi, che secondo me i soldi ok, sostentamento va bene ma quando tu rappi solo per fare i soldi secondo me c'è qualcosa che non va è veramente un attimo ritrovarsi al Pedro, presi bene, ricordarsi perché è nata questa musica poi veramente basta accendere il microfono e l'impianto nel posto giusto con la gente giusta che te le dimentichi tutte queste cazzate alla fine Proiettiamoci in tempo reale ora, quali sono alcuni dei valori che secondo me si sono un po' perduti, oltre questo che abbiamo appena menzionato e come è cambiata, come è cresciuta, come sei evoluto tu in questo percorso arrivando a questo nuovo album Medio Ego? Io mi sono messo a confronto con le wave di oggi ho detto ok, era il 2020 quando ho fatto il disco qual è la wave del 2022? Voglio fare quella roba perché comunque l'errore che abbiamo fatto tanti noi della old school è stato di non metterci a confronto con le cose nuove e sedersi un po' sugli allori esatto, magari sulle glorie, ricantare sempre le stesse canzoni per vent'anni e giustamente mi rompevo le palle pure io cioè me l'ho rotto le palle pure io proprio quando magari vedi un Baby Touche, che oggi è qua la prima volta che sale sul palco e ha fatto la canzone che aveva 15-16 anni qua a Padova e io l'ho sentito, lui, ho visto il video là, Seba Laput ho detto, micchia, ma questo, cioè, mi piace sta roba, voglio farla anch'io cioè per assurdo mi ha dato ispirazione un ragazzo di 15 anni secondo me se uniamo le forze, come stiamo facendo stasera ragazzi di 15 anni che magari non hanno tanta coscienza politica gliela possiamo dare noi però hanno tanta voglia di fare cose nuove che possono trasmetterci a noi secondo me se uniamo le forze possiamo fare grandi cose a proposito del nuovo album questo titolo è anche una provocazione spesso l'ego può essere anche un problema che va a invadere al di là di quello che può essere il linguaggio rivoluzionario del hip hop sì, il medio ego, c'è questo titolo, mi è uscito un po' così allora, ero in un periodo, comunque eravamo in covid che mi sentivo nel medioevo, in più abitavo in Salento e mi sembrava veramente di vivere in un'epoca antica cioè non riuscivo veramente a confrontare cioè mi confrontavo con la natura bene, ottimo rapporto con le persone proprio aiuto e invece poi andando a Milano a registrare le canzoni il medioevo è diventato medioevo perché invece a Milano c'è tutto questo ego medio che sono tutti io ma poi alla fine sono tutti uguali c'è anche questa roba del social mentre giù in Salento c'era il rapporto con la natura medioevo, a Milano c'era il rapporto con la tecnologia medioevo quindi alla fine ho unito le cose è nato in modo molto naturale neologismo sì, ho iniziato a scrivere seguendo questa chiave diciamo di interpretazione uno dei brani che mi ha colpito è appunto Veterano il brano che vede la firma di Sciocca la produzione che è un sodalizio che ritorna dopo anni come è stato ritrovarsi con Sciocca e qual è stata l'idea di questo brano? allora l'album era tutto super drill, new school, quasi trap a un certo punto ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto facciamo un pezzo con Sciocca vi prego per dare una sorta di continuità sì, tanto perché non lo facevo da un sacco di tempo e ne avevo bisogno è stato un po' timbrare il cartellino però ci voleva se no dicevano vabbè magari sta esagerando in occhi cioè era anche ricordarsi da dove viene chi è, qual è lo stile suo sì, è sempre bene riuscire ad avere ancora il proprio DNA assolutamente e con le sonorità di Sciocca è stato valorizzato, no? a proposito di linguaggio e di musica hip hop di com'è cambiata oggigiorno c'è ancora qualche artista anche a livello internazionale tu hai lavorato appunto con M1 hai avuto anche questa esperienza internazionale con Bono com'è stata questa esperienza internazionale? cosa ti ha dato? ti ha dato nuovi input? assolutamente cioè i viaggi in America che ho fatto da ragazzo mi hanno dato la scintilla che mi è servita a iniziare a rappare in un certo modo perché comunque io il rap lo vivo, lo penso in testa ce l'ho all'americana infatti anche Mohan mi diceva tu comunque sei italiano ma sei uno dei pochi che interpreta rap italiano con lo stile americano perché il primo imprinting non lo dimentichi mai esatto, cioè per me comunque anche se rappiamo in italiano dobbiamo rappare con lo stile americano con un'attitudine sì, sì, io la vivo molto così quindi mi è servito tanto mi manca tanto viaggiare mi manca tanto il contatto umano io non so voi ma a me già mi fa strano socializzare così c'è una cosa non ero più abituato anche perché diciamo che a Bologna soprattutto avevamo anche il privilegio di essere protagonisti di eventi organizzati appunto all'Isola nel Cantiere a Link a Livello eccetera eccetera con artisti internazionali di Spico che avevano proprio quest'attitudine questo messaggio molto forte pregnante e quindi farne a meno è stato un sacrificio no, è un dramma ma per noi è un dramma ok ma noi almeno una violenza noi almeno l'abbiamo vissuto io invece penso a ragazzo di 18-19 anni sì, sì ma lo vivrà lui? cioè la domanda è adesso, dopo ci permetteranno di nuovo di socializzare o sarà così per sempre? perché la mia paura vera è questa perché se fosse così per sempre vuol dire uno strascico irreversibile la mia paura è quella sì, sì perché noi comunque l'abbiamo vissuto io gli anni 90 me li sono fatti le feste me le sono fatte quando non c'era internet quando c'era il telefono cioè me la sono goduta la vita c'ho paura che il ragazzo di 16 anni non possa avere questa possibilità e questo è seriamente grave allora una domanda riguardo al tuo percorso ora il tuo tour avrà anche delle tappe con la live band no? sì a Brescia anche a Bologna anche forse a Torino come è nata questa idea e cosa ti ha dato? avevo bisogno di evolvermi sul palco perché dopo 20 anni ho fatto un migliaio di date ci siamo beccati un sacco di volte sempre col DJ sempre in quella modalità ho detto vabbè visto che il disco è andato bene ti capisco dopo aver visto gruppi tipo The Roots che te lo dico magari vabbè quello è a livello altissimo però avevo bisogno anche un attimo di evolvere di motivarmi a fare qualcosa di diverso per non ritornare magari a buttarmi giù a fare sempre le stesse cose ultima domanda qui a Radio Sherwood sei già venuto varie volte cosa rappresenta per te suonare all'interno di un festival come Radio Sherwood o altri festival del circuito appunto come Radio Onda Dur di compagni significa fare il mio dovere io sono venuto qua con gli assalti frontali da solo non mi hanno mai chiamato perché facevo troppi casini prima adesso che sono un po' più serio finalmente i compagni mi chiamano non mi drogo più sono tutto in forma sono più fresco e sono felice che finalmente ho il mio spazio nel mio mondo perché a me mia mamma mi portava al centro sociale quando ero 4 anni ne ho 40 cioè comunque mi dicono ma fatti club no fammi fare queste cose qua che mi sento a casa mia ecco quindi ok grazie un ultimo saluto agli ascoltatori e ascoltatrici di Sherwood Radio grazie a voi grazie dell'ospitalità dello spazio e dell'occasione che mi avete dato bella Max grande grazie a tutti